L'Abruzzo secondo lei che vocazione ha? Più montano, più marino o tutte e due? No, l'Abruzzo ha la doppia vocazione. Dobbiamo cercare di avere un turismo di più lunga durata. Abbiamo le punte nel mese di luglio, nel mese di agosto, il turismo marino che dobbiamo intercettare e mandare anche alle zone interne. Poi abbiamo il turismo, quello di montagna o quello di collina, come lo vogliamo chiamare, o un turismo rurale che si può effettuare durante tutti i mesi dell'anno. Né su quello che dobbiamo insistere, come l'Abruzzo, ma mi sembra che anche l'indicazione che viene sul sistema è Italia, perché altrimenti non riusciamo a mantenere quelle cifre che oggi abbiamo e sono importanti, che possono essere aumentate, perché oltre le solite mete, quelle importanti, Roma, Firenze, Venezia, eccetera, l'Italia ha tanti turismi che possono fare accoglienza. Penso per esempio al ciclo turismo di cui siamo arrivati in ritardo e che dovremmo essere invece i primi promotori e l'Abruzzo lo è, perché siamo l'unica regione che ha fatto dell'intera costa tutta una pista. Speriamo di riuscire a fare adesso i segmenti che portano all'interno e quindi portare verso la montagna. Il ministro Centinaio ha detto che il governo vuole uscire dalla direttiva Bolkestein. Sulla Bolkestein noi ci siamo già espressi, siamo anche noi contrari. Il problema è che purtroppo non si riesce a superare. È stato fatto questo tentativo da parte del governo di scavalcare con una norma nazionale inserita alle finanziarie, una proroga di 15 anni. Io credo che andremo in infrazione. È chiaro che comunque su questo c'è piena sintonia tra il governo regionale, tra il governo nazionale, tra le organizzazioni, quindi la nostra battaglia a Bruxelles la stiamo portando avanti e la porteremo avanti perché mi sembra intervenire così a gamba tesa su un segmento economico che negli anni è stato costruito da tanti bravi imprenditori significa un danno enorme per la nostra economia.